La società DIMOS, in collaborazione con l'ente di controllo francese MSA, ha messo a punto un nuovo sistema di sicurezza per rendere più sicuro ed ergonomico l'accesso su coperture fragili. DIMOS mette a disposizione degli operatori del settore tutte le attrezzature per la messa in opera e la manutenzione di coperture di ogni tipo. I prodotti anticaduta DIMOS sono distribuiti in Italia da AMSA. I campi di applicazione sono molteplici. Tetti fragili come quelli realizzati con lastre in cemento amianto o a lastro ondulate, coperture metalliche o traslucide che si rivelano particolarmente scivolose o più semplicemente coperture realizzate con travetti o strutture di rinforzo localizzate, che non sempre garantiscono un buon risultato per impedire la caduta. Quando si tratta di operare su un tetto, occorre mettere in sicurezza il sistema di accesso che può avvenire tramite lucernario, dall'esterno o con piattaforma elevatrice o nel caso di un edificio di modesta altezza, anche da una scala portatile. In quest'ultimo caso, per la messa in sicurezza sono possibili due soluzioni. La messa in opera di un punto di ancoraggio a parete a cui agganciare la scala o l'utilizzo di uno stabilizzatore per coperture ondulate che si appoggia all'interno dell'onda della lastra. Securiplac è stato progettato per essere compatibile con i vari sistemi di accesso, sia per le sue dimensioni e peso, sia per la possibilità di essere posato in sicurezza prima di posare i piedi sulla copertura. Securiplac è un sistema antisfondamento che impedisce la caduta per rottura o cedimento della superficie di calpestio, evitando inoltre i problemi legati allo scivolamento. Si fissano sulla copertura delle piastre di ripartizione del peso, senza danneggiare la copertura stessa. Le lastre sono di facile manovrabilità, si agganciano senza rimuovere la copertura e hanno una superficie tale da impedire lo scivolamento anche in presenza di umidità. Securiplac è inoltre un sistema modulare e versatile e pertanto, con pochi componenti, è possibile realizzare i percorsi necessari per qualunque attività manutentiva. Rapida nella posa, il suo fissaggio è realizzabile utilizzando spesso gli stessi ancoraggi delle lastre. La stessa lastra può essere posata nei due sensi, è dunque possibile realizzare un percorso su tre lati che circonda la zona di intervento. Per la posa e l'utilizzo di Securiplac è necessario disporre di un sistema anticaduta realizzato con elementi strutturali già in opera o con sistemi provvisori. È stato predisposto a questo scopo un apposito kit che comprende sia dispositivi di protezione individuali, a cominciare dalle imbracature e cordini, a sistemi di fissaggio provvisori che possono essere realizzati anche ancorandosi a strutture esistenti, facendo passare una corda sopra il tetto. In conclusione ci permettiamo alcuni consigli. Regola numero 1. Salire su un tetto è un lavoro che non si improvvisa. Non rischiate, ma approfittate dell'esperienza delle ditte specializzate. Regola numero 2. Garantite la vostra sicurezza utilizzando piastre di ripartizione del peso antiscivolo, abbinate ad un sistema anticaduta. Regola numero 3. Verificate periodicamente il vostro tetto, prevedendo attività di manutenzione programmata. L'urgenza genera l'imprudenza. Regola numero 4. Non intervenite mai da soli, fatevi assistere e sorvegliare. In caso di caduta, anche con imbracatura, è indispensabile un soccorso rapido.